Campola, Polizio, Cavano, Esposti Portano, Tertese, Esposti Portino, Monaco, Gliotti Gliotti, Cavigliano, Laizza, Spastano, Sofio, Glippe, Ferranato, Cermone, Petrone, Arrano, Patron, 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 Pat Scusate. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Scusate. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. E' l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, di abbastanza curazione, allora c'è l'ecosimoria. C'è l'ecosimoria, c'è l'ecosimoria, c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, c'è l'ecosimoria. Allora, se non vi sono altri di erotitieti, c'è l'ecosimoria. E' l'ecosimoria che si è verificata in queste settimane, dopo l'organizzazione delle condizioni del sindaco. Io l'ho servito traduzionalmente a dedicare questa dimissione, a trovare la sua partenza, come la maggioranza, oggi c'è stato, cercate di unità, come dobbiamo anche noi cominciare a incabinarci in questa unità dell'opposizione e di stabilire un clima democratico all'interno di questo contesto giusto. Grazie. Consigliere, il mio avviso, evidentemente, il mio avviso è una data commissione, lo che si è vero, lo sominare. Consigliere, il mio avviso vuole una rettica a un'automobile. Non ci sono altri di erotitieti. Consigliere, il mio avviso è un'automobile. Chiudiamo questa parte. Questi sono dei passi, lo diciamo, lo possiamo lavorare. Consigliere, il mio avviso è un'automobile. Consigliere, il mio avviso è un'automobile. No, io sono stato un'automobile. Perché oggi, terrifico, davvero, ho una grande realtà. che da parte di alcuni consigliere comunali, ci sono delle proposte che vanno verso la serenità, verso la commissione, verso la convergenza, e quindi in grado di suggerire dautamente, ma con un spinto abbastanza preciso di ridinare le ridinzioni per una consigliere di adottamento. Io dico, a sé, in grado di adottamento. Io dico che nessuno di voi deve ergerci quanto questo. nessuno di noi deve fare degli stili. Nessuno di voi può dire se la candidatura di Mello Cervone è stata una candidatura legittima o non è stata portata avanti dallo stesso candidato. Lo sappiamo bene, che la candidatura di Mello Cervone è stata una candidatura che è interessata da una risoluzione che è stata portata avanti da due consigliere comunali, da sottostretta dallo stesso Mello Cervone. Per cui ringraziamo tutti i conosco che si sono dedicati in questo momento per trovare un'unità, una coesione e poi che parleremo in altre sedute che non ci sono un'altra. Quando parleremo di coesione, parleremo di nascerenza, parleremo di serenità, parleremo di concetti di cicli, parleremo di legalità e parleremo di altri. Oggi, quello che noi intagliamo, resta sul tavolo da candidatura che non c'è lui. Aspetta. Allora, possiamo considerare la votazione. Come già lo indicato, direi così, ci sono gli altri unicari, che non c'è lui, che non c'è lui, che non c'è lui. Come si chiama il Consiglio, non c'è lui, che non c'è lui, che non c'è lui. Il Consiglio, per cui si prese. Grazie. 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 Grazie.